Ciao, sono Marcello De Carolis e sono felice di annunciarti che, finalmente, insieme a Francesco Loccisano, abbiamo terminato l'incisione del disco 20 per due chitarre battenti. Abbiamo inciso il disco in due sessioni, la prima nel weekend del 24 gennaio 2020 e la seconda nel weekend del 7 febbraio 2020. Vediamo un po' qual è il titolo che abbiamo scelto per il nostro album. La scelta di un titolo non è mai semplice. Se quello di una composizione è difficile, quello di un album lo è ancora di più. Infatti, il titolo di una singola composizione deve raccontare il singolo brano, ma quello di un album deve trovare il filo conduttore fra tutti i brani. E per questo disco, una raccolta di brani di Francesco Loccisano rielaborati per due chitarre battenti, il compito non era semplice. In accordo con Francesco Loccisano abbiamo partorito il titolo 20. Ma perché 20? Entrambi siamo sognatori, appassionati di simbologia e numerologia. Abbiamo deciso di giocare con il numero e il significato di 20 per varie ragioni. Il significato più scontato è che siamo nel 2020, ma il 2020 è, se vogliamo, anche l'anno dei due, dato che è un duo di 20. Il nostro duo inoltre ha 20 corde, dato che ogni chitarra battente ne ha 10. E ancora il più importante, venti come il soffio dei venti, portatore di novità e culture differenti, racchiuso nel vortice sonoro creato dalle nostre chitarre battenti. Il nostro produttore artistico è Muyura e abbiamo effettuato l'incisione presso il suo studio di registrazione, l'Aranco Sonic Studio. Stefano Simonetta, in arte Muyura, è un noto cantoatore con inattivo due album, come tutti gli altri dei, e Muyura. In descrizione ti lascio il link per ascoltarlo. Oltre ad essere un cantautore, Muyura è un artista eclettico, produttore di esperienza, oltre che bassista e collaboratore di Eugenio Bennato. Durante le registrazioni ha saputo metterci a nostro agio, per farci suonare tranquilli e al meglio. Inoltre ci ha dato preziosi consigli per un risultato ottimale. L'Aranco Sonic Studio di Muyura si trova a Focà, frazione di Caolonia in provincia di Rezio Calabria. Focà è la terra delle arance, proprio per questo lo studio di registrazione prende il nome di Arango Sonic Studio. La nostra etichetta discografica e anche nostra produzione è la Italy Sona di Giuseppe Marasco, precedente fondatore di Calabria Sona. Possono convivere due chitarre battenti? A questa domanda abbiamo già risposto con i nostri concerti. Infatti ci siamo già esibiti in vari concerti, in vari festival musicali, come al 36esimo Festival Internazionale della Chitarra di Lago Negro, al Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, all'Alica Festival e al Festival I Colori del Sud. Inoltre avevamo già sperimentato la registrazione del Volo dell'Angelo e di Scilla per due chitarre battenti. Sempre in descrizione ti lascio i link per ascoltarli. Ma questo nuovo lavoro discografico rappresenta l'avanguardia della chitarra battente. Le nuove frontiere di dialogo chitarristico partono dal nostro territorio e da qui promettiamo pian piano che conquisteremo il mondo. L'album uscirà appena il lavoro di mix, mastering e grafica saranno terminati. Quindi per il mese di maggio potrai ascoltare i nostri 20 battenti. Ciao, grazie per l'attenzione. Per non perdere tutte le mie novità e quelle che stiamo creando insieme a Francesco Loccisano, ti invito a seguire il mio sito www.marcelodecarolis.com per iscriverti al mio canale YouTube, seguirmi sui miei social Facebook ed Instagram per non perderti tutte le mie novità. Ciao e alla prossima!